Ciao, sono Andrea e ormai da 5 anni faccio Ironman. 5 anni fa ho iniziato a correre, non avevo mai corso, ovviamente molto traumatico, ho visto il mio peso, sopra i 90 kg, allora 100 kg. E quando ho iniziato, dopo pochi mesi, mi è venuta una terribile fascite e mi sono rivolto subito al nostro doc, che mi ha analizzato in modo molto approfondito, concludendo che avevo bisogno veramente di un plantare per correre, per camminare. Il risultato è stato questo bellissimo plantare personalizzato, che ho cambiato tante tante volte con l'aiuto di Mattia, mi ha fatto sparire subito il problema, mi ha rimesso in bolla, come dice lui, e ormai è 5 anni che lo uso, centinaia di chilometri, di corsa, ma anche in bici, e devo dire che mi sono sempre trovato incredibilmente bene, e tanti dei dolori sono passati con questo. È fondamentale, lo uso anche per camminare, un altro plantare, un altro in carbonio, è molto bello, e ogni anno rifacciamo una valutazione con Mattia, che è sempre un super specialista, nonché un grande amico. Quindi vi consiglio veramente di usarlo e di rivolgarvi a Mattia, perché è veramente un grande professionista.